Appena l'abbiamo esposta ci siamo accorti subito che c'era qualcosa di diverso, che attirava l'attenzione in maniera differente. Non era una cabina doccia, era qualcosa di diverso. Abbiamo visto il pubblico fermarsi, abbiamo visto persone parlarne. La progettazione di un prodotto così ha avuto dei momenti sicuramente di difficoltà, ma sono stati superati con tenacia e con voglia e un'idea chiara di dove volessimo arrivare. Dare un nome al prodotto è complicato perché deve essere semplice, deve essere immediato, deve poter essere detto anche dalle persone in lingua straniera senza storpiature. Il fattore scaramantico in Bismaravetro da sempre, i prodotti che iniziano con l'AS, sono prodotti che hanno avuto un successo commerciale e quindi ci piaceva l'idea che iniziasse con l'AS. È qualcosa che va pensato in fase progettuale, è una cosa che permette a chi progetta un enorme slancio di poter scegliere gli spazi, scegliere le finiture, dividere, oscurare, mettere in mostra. È veramente uno step evolutivo. Grazie a tutti i nostri spazi,